Stamattina sentiamo in esclusiva il pluripremiato attore e attivista Michael J. Fox in vista della raccolta fondi annuale della sua fondazione che si terrà sabato qui a New York. A Fox è stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 1991. Aveva solo 29 anni, ora ha 62 anni e convive con la malattia da più di metà della sua vita. Dalla sua creazione nel 2000, la Michael J. Fox Foundation ha finanziato quasi, guarda un po', 2 miliardi di dollari di ricerca sul Parkinson. Abbiamo incontrato Fox per parlare dell'evoluzione della convivenza con la malattia e dell'impatto globale della sua fondazione. Non avevano soldi, non avevano voce e io ho pensato, beh, posso intervenire al posto di queste persone e sollevare un po' di problemi. Dopo più di tre decenni di convivenza con il morbo di Parkinson, Michael J. Fox sta sollevando molto più che un semplice inferno. È impossibile da spiegare a parole. Sta alzando l'asticella e un sacco di soldi per la ricerca sul Parkinson. All'inizio di quest'anno una clinica di riferimento, guidato dalla sua fondazione, ha scoperto un biomarcatore, una proteina presente nel liquido spinale, che può aiutare a individuare il Parkinson nei pazienti e, in alcuni casi, anche anni prima della comparsa dei primi sintomi della malattia. È una specie di cura, ma è un grande riflettore puntati su dove dobbiamo andare e su cosa dobbiamo concentrarci. Sappiamo quindi di essere sulla strada giusta e ne siamo molto orgogliosi. La malattia di Parkinson è una patologia cerebrale progressiva che, con il tempo, può privare una persona dei movimenti e della parola. Non esiste nessuna cura. Ho avuto momenti in cui non avevi sempre questo bel sorriso stampato in faccia e le cose ti sembravano un po' cupe e buie e ti ritrovavi a combattere quella che poteva sembrare depressione o incertezza. Ieri alle 3.50, 7.30 qui, voglio dire sempre, sempre davvero, sempre. La positività è davvero sincera, la sento davvero ed è genuina, ma è duramente combattuta. Dovrei dire, questa paura possiamo trovare il modo di concederci una pausa, di darci il merito di aver superato la vita alle condizioni della vita. E per farlo dobbiamo fermarci e dire, non è così male, non è così male. Non è così male, non è così male. L'ultima volta che abbiamo parlato ho imparato un po' di più su di te, ho imparato un po' di più su di me. E proprio ora, questo è stato un altro momento in cui sei stato molto onesto dicendo, sì, ieri ho avuto quei momenti in cui le cose non erano ancora arrivate alla paura. E come atleta con ego e spavalderia ho nascosto quella paura per molto tempo. E ora sono un po' più aperto con me stesso e con la mia famiglia sui momenti di difficoltà, sui momenti bui. Quindi voglio ringraziarti per averlo detto. L'opposto della paura è la fede. L'idea è che se sei fedele a te stesso e alle persone che ti amano, tutto andrà bene. E l'angolo di Fox negli ultimi 35 anni è stato il suo più grande sostenitore, fan e partner. Sua moglie, Tracy Pollock, che ha conosciuto sul set di Legami di Famiglia nel 1925. Lei non è Trisha Armstrong, vero? Shalala no, sono Ellen Reed. Mi dispiace deluderla. Com'è stato averla accanto in ogni momento? È stato fantastico per me. Non so se lo sia anche per lei, ma... Sai, io... Amo Tracy, ovviamente. È una persona fantastica e ne ha passate tante. Quindi la domanda più importante rimane. Cosa ci vorrà per sradicare questa malattia una volta per tutte? Ho capito che lei ha una vita separata da quella di me che ho il Parkinson. È stato molto dolce, ora stai zitto. Separata dal mio essere Alex Keaton. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo? Umar to McFly. Da una DeLorean... È una persona, e credo sia per questo che si è spenta. Sono un duro, sono un duro. Non avevo idea di cosa aspettarmi. Nemmeno lei. Ma in un certo senso, mi ha indicato quello che stavo dicendo. Nel bene e nel male. Direi che era nella salute che lei mi avrebbe accompagnato e aiutato a superare la cosa. O l'avrebbe affrontata con me. E lo ha fatto. In 35 anni. Nel bene e nel male. Queste parole hanno un significato diverso. Come dicevo, sapevamo che l'autobus stava arrivando. Stava per colpire. Ma non sapevamo quanto fosse lontano e a che velocità stesse andando. Quindi, voglio dire, in qualsiasi momento sarebbe stata perdonata. Avrebbe detto, sempre di fare un passo indietro. Ma non l'ha affatto. Sta ancora combattendo. E ha ancora un grande senso dell'umorismo. Non c'è dubbio. Ha il suo senso dell'umorismo. E alla fine ha detto, sapevamo che stava arrivando. Non sapevamo quando o quanto velocemente sarebbe arrivato. Prima che ci colpisse. E ci ha convissuto per tanto tempo con la sua compagna al suo fianco. Una cosa che posso dire di lui è che ha dedicato la sua vita al Parkinson e alla ricerca. Ha fatto molto per questa causa e ha appena iniziato. Si sente ottimista? Ne ha la sensazione? È così. Ho la sensazione che lo sia? Si è trattato di una svolta nel campo della ricerca medica sul Parkinson. Con la scoperta di questi biomarcatori in grado di identificare l'alfa-sinucleina, come viene chiamata. Una proteina che si raggruma. È possibile identificarla prima. Il che aiuta le persone nel resto della loro vita. Continua a migliorare. Spero che anche tu continui a controllarlo, Nate. Senza dubbio. E dirò solo un'ultima cosa. L'ho detto a lui e lo dirò alla gente. Perché ci sono molte persone che stanno affrontando cose che noi non conosciamo. La sua lotta pubblica dà forza a milioni di persone in privato. Sì. E noi lo ringraziamo per questo. E noi lo ringraziamo per questo. Sì, è vero.